di g2000 edizione delle ore 12 buongiorno questi titoli delle principali notizie di oggi papa francesco professore al liceo classico di roma pilo albertelli lo scorso anno gli studenti coordinati dall'insegnante di religione andrea monda prepararono i testi della via crucis al colosseo conferite dal presidente della repubblica mattarella 32 onorificenze italiani che si sono distinti per impegno civile dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani sono gli eroi del quotidiano rinviato l'aumento dei pedaggi autostradali nell'ultima bozza del decreto mille proroghe tra le varie misure del provvedimento la riproposizione anche per il 2020 del bonus verde e degli incentivi per acquistare motorini elettrici con la rotamazione di quelli inquinanti apriamo questa edizione con la politica accordo nella maggioranza sulla riforma delle intercettazioni e via libera alla prescrizione lunedì alla camera l'ultimo voto di fiducia per la legge di bilancio ma arrivano dati positivi sui consumi che fanno tirare il fiato tutti gli aggiornamenti da augusto cantelmi cresce la fiducia dei consumatori mai così bene da due anni migliora anche quella delle imprese a dicembre per l'istat si registrano segnali incoraggianti sullo stato di salute dell'economia l'aumento della fiducia si riscontra soprattutto nella grande distribuzione ma con miglioramenti anche per i negozi tradizionali scongiurato così il temuto crollo delle vendite a natale per quanto riguarda le imprese invece l'indice di fiducia cresce in modo lieve nel settore manifatturiero mentre aumenta in modo deciso nelle costruzioni i dati dell'istat giungono mentre la manovra si avvia a completare il suo lungo iter lunedì la fiducia alla camera e il voto finale sulla legge di bilancio clima che tuttavia resta rovente all'interno del governo e tra maggioranza e opposizioni nel vertice notturno a chigi sulla prescrizione trovato l'accordo ma italia viva di renzi mostra perplessità la riforma comunque parta gennaio a marzo quella sulle intercettazioni la riforma della prescrizione entrerà in vigore dal primo gennaio ed è la riforma che prevede che dopo la sentenza di primo grado non si torna più a casa senza una risposta da parte dello stato resta alta la tensione invece tra lega e 5 stelle sulla vicenda della nave gregoretti salvini insiste se processate me per sequestro di persona processate 3 milioni di italiani mi vogliono portare in tribunale lo facciano stop all'aumento dei pedaggi autostradali lo prevede l'ultima bozza del decreto mille proroghe che rivia anche l'entrata in vigore del decreto intercettazioni sentiamo marco bergamaschi niente consueti rincari di inizio anno al casello infatti con l'imminente valore del decreto mille proroghe che domani sarà l'esame del consiglio dei ministri dovrebbe arrivare anche un rinvio degli adeguamenti delle tariffe per le principali tratte autostradali da quelle gestite dall'autostrada qua d'Italia alla strada dei parchi che collega Roma a Teramo alcune misure del decreto prevedono proprio lo slittamento per l'adeguamento delle tariffe autostradali relativo all'anno 2020 che viene legato all'aggiornamento dei piani economico finanziari i concessionari avranno tempo fino al 30 marzo per presentare l'autorità dei trasporti l'aggiornamento dei piani dovrà poi essere perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020 non è l'unica novità contenuta nel mille proroghe come la misura per nuove assunzioni in vari organi dello stato e per circa 2300 nuovi ingressi spalmati in un quinquennio nelle forze di polizia nel decreto poi ci sarà anche il rinvio dell'entrata in vigore della legge sulle intercettazioni al 2 marzo dopo l'accordo raggiunto nella maggioranza proprio su questa norma andiamo all'estero la guerra civile in siria non è finita nella regione di idlib infuriano gli scontri tra l'esercito di assad sostenuto dai russi e le milizie anti regime sostenute dai turchi decine i morti 70 mila persone in fuga dai bombardamenti il punto della situazione con marco burini il cielo è sereno come quasi tutti i giorni da queste parti e come tutti i giorni dal cielo piovono bombe assordanti devastanti li chiamano barili bomba tanto semplici quanto micidiali grandi contenitori di metallo magari proprio i barili del petrolio che si produce in zona riempiti di esplosivo ma anche di rottami bulloni ferraglia per distruggere il più possibile case e persone la guerra civile in siria non è finita tutt'altro nella regione di idlib infuriano gli scontri tra l'esercito di assad sostenuto dai russi e le milizie anti regime sostenuti dai turchi che hanno appena invaso il nord est del paese a caccia di curvi decine di morti e 70 mila persone in fuga sotto i bombardamenti quasi tutti anziani donne e bambini costretti a passare la notte all'aperto al gelo nella speranza di finire in uno di questi campi profughi dell'onu che nella zona ha contato all'incirca 3 milioni di civili la metà provenienti da altre regioni di questo paese fatto a brandelli ci ostiniamo a chiamarla emergenza umanitaria ma dura da dieci anni normalità disumana sarebbe una definizione più corretta meno ipocrita di quello che accade sotto i nostri occhi un incendio nella notte alla fabbrica nunchi still nei pressi di udine ha provocato una notevole produzione di fumo molto acre e irritante contenente solfo secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato nel corso della lavorazione di materiale ferroso da una cappa di aspirazione il prodotto della combustione ha raggiunto anche la vicina fabbrica marcegaglia dove stavano lavorando una decina di addetti al turno di notte gli intossicati per il fumo inalato una ventina sono stati soccorsi dal 118 arresti in piemonte sequestri di beni nei confronti di soggetti ritenuti legati all'andrangheta oltre all'associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro contestato anche il reato di scambio elettorale politico mafioso fra gli arrestati l'assessore regionale roberto rosso a lungo parlamentare di forza italia ora in fratelli d'italia le accuse riguarderebbero le ultime regionali finché la vicenda non sarà chiarita ha dichiarato la leader del partito giorgia meloni rosso è da considerarsi ufficialmente fuori da fratelli d'italia ancora maltempo questo fine settimana in varie parti d'italia con una serie di allerte diramate dalla protezione civile ci dice tutto alessandra camarca il maltempo continua a colpire il nord italia allerta rossa in liguria dove è stata disposta la chiusura di porti a scuole chiusa la 6 tra savona e altare dove secondo quanto ha dichiarato la protezione civile è attesa una perturbazione molto violenta la chiusura autostradale è prevista dal piano viabilità approntato dopo la frana in località madonna del monte e il crollo del viadotto sulla 6 peggiorato sensibilmente il quadro meteo anche lombardia dove in provincia di pavia le piagge continue hanno provocato una frana sulla strada statale 166 avvarsi i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere sassi e detriti caduti non va meglio in piemonte dove le scuole restano chiuse in molti comuni in emilia romagna sono tornate piogge forti venti di burrasca e possibili mareggiate allerta gialla invece in sardegna campania lazio toscana e umbria già da oggi e dove è previsto un fine settimana molto perturbato oltre alle piogge che saranno talvolta intense si aggiungerà il vento che domenica soffierà con raffiche fino a 130 chilometri orari sabato partirà con piogge abbondanti al nord est in toscana sul lazio sulla campania ma tutto tenderà a cessare nel pomeriggio quando è attesa un'effimera pausa dalle precipitazioni 32 eroi civili sono italiani che si sono distinti per atti di eroismo per l'impegno nella solidarietà nel soccorso nella tutela dei minori nella promozione della cultura e della legalità ma anche della coesione sociale e dell'integrazione a loro mattarella ha conferito le onorificenze al merito della repubblica sentiamo silvio vitelli sono 32 si sono distinti per atti di eroismo impegno nella solidarietà nell'ambiente nella promozione della cultura e della legalità a loro il presidente mattarella ha deciso di conferire l'onorificenza al merito della repubblica italiana sono veri e propri esempi civili come romolo carletti 84 anni che vive tra le montagne toscane tutte le mattine accompagna e riprende da scuola un bambino macedone di 7 anni non vedente che vive con la famiglia in una casa vicina il padre del bimbo lavora come taglialegna e già all'alba e nei boschi la madre non ha la patente per questo Romano percorre 60 km al giorno di curve tornanti tra gli abeti commuoveva tutti questo bambino purtroppo il lavoro ci porta via più tempo che la famiglia Cristian Bracic triestino a capo di un'azienda con 40 dipendenti premiato per il suo esemplare contributo nella promozione di politiche aziendali fondate sulla conciliazione tra vita professionale e familiare e sulla tutela del valore della persona anche nel mondo del lavoro Dino Impagliarzo 89 anni romano conosciuto come lo chef dei poveri con l'aiuto di 300 volontari confeziona e distribuisce pasti caldi nei piazzali e sotto le tettoie delle stazioni ferroviarie mi chiedo un caffè ma forse bisogna di qualche cosa io che cosa posso fare? abbiamo curato il trasferimento da Londra fino a Roma Massimo Pieraccini 56 anni fiorentino l'angelo dei trapianti da oltre 25 anni con l'associazione che ha fondato si occupa di trasporto urgente per prelievi d'organo, plasma, midollo osseo e altri materiali biologici e sanitari nonché dei farmaci salvavita e degli stessi pazienti che debbono eseguire un trapianto e ora come anticipato nei titoli andiamo al liceo classico Pilo Albertelli di Roma dove c'è Cristiana Caricato che ci racconta questo incontro di Papa Francesco con gli allievi dell'istituto a te Cristiana ti ascoltiamo sì buongiorno un giorno da professore per Papa Francesco arrivato qui intorno alle 11.25 dal Vaticano dopo l'udienza al segretario generale dell'ONU Guterres un'udienza importante dove si è parlato di pace ma anche di migrazione il Papa è arrivato qui su invito della Presidente Antonietta Corea ma anche soprattutto dei ragazzi, ragazzi che un anno fa nella Via Crucis del 2018 avevano preparato le meditazioni proprio su invito del Pontefice ora sono tutti raccolti all'interno del cortile e il Papa sta ascoltando le domande che i ragazzi gli hanno posto cinque domande la prima riguarda la solitudine non solo la solitudine del Pontefice ma anche la solitudine in tanti adolescenti che attraversano una fase particolare della loro vita e poi la domanda sull'amore senza secondo fine se esiste veramente se c'è la possibilità di raggiungerlo la terza domanda su come era da professore e soprattutto come si approcciava ai ragazzi che non erano credenti oppure appartenevano ad altre religioni la quarta domanda è sulle parole che userebbe per convincere questa proprio la formulazione della domanda qualcuno a diventare cristiano o una persona che ha perso la fede e infine l'ultima domanda forse la più interessante che cosa pensa Papa Francesco prima di addormentarsi vedremo se appunto ci diranno quali sono le parole del Pontefice dovrebbe rimanere all'incirca un'ora ad accoglierlo c'era anche l'osservatore il direttore dell'osservatore romano Andrea Monda che come sapete è anche il conduttore della fortunata trasmissione di TV 2000 buongiorno professore e proprio il Papa oggi ha preso il posto di Andrea Monda e tiene un'ora di lezione a tutti i ragazzi di questo liceo appunto storico romano a due passi da Santa Maria Maggiore e dalla Madonna Salus Populi Romani che il Papa ama tanto e allora vi aggiorneremo su quello che il Papa ha detto ai ragazzi nelle prossime edizioni del nostro TG a voi la linea sentito prima di andare al liceo Albertelli Papa Francesco ha incontrato in Vaticano il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres tra gli argomenti del colloquio la pace e le migrazioni insieme hanno registrato un video messaggio che verrà diffuso in seguito ma ascoltiamo Pierluigi Vito è stato l'ultimo incontro del viaggio di Antonio Guterres in Italia ma certo è tra quelli di maggior significato il segretario generale delle Nazioni Unite teneva all'udienza di Papa Francesco di stamattina un'occasione per ribadire la sua stima verso il Pontefice e per continuare a tessere il filo di impegni comuni tra ONU e Santa Sede al centro del colloquio situazioni critiche sulla scena internazionale come il tema delle migrazioni di massa e come le iniziative per difendere la libertà religiosa nelle sue manifestazioni pubbliche e nella pratica privata attacchi terroristici e parole d'odio sono fenomeni che l'ONU intende contrastare un passaggio importante potrebbe essere l'istituzione di una giornata della fratellanza umana da celebrare il 4 febbraio di ogni anno è questa la richiesta del comitato che raduna esponenti cristiani musulmani ed ebrei consegnata questo stesso mese alla sede di New York delle Nazioni Unite insieme a un messaggio congiunto di Papa Francesco e del grande mamma di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb ovvero i due protagonisti della firma del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune avvenuta proprio il 4 febbraio di quest'anno ad Abu Dhabi è tutto per questa edizione vi lascio alla nostra rubrica culturale terza pagina grazie della cortese attenzione buon proseguimento di giornata arrivederci